Musica Attenzione all'armo, questa prima mattina di avanti, e andiamo a chiudere, numero 131, Leonardo Cosette di 10 e 0-3 Musica Attenzione all'armo, questa seconda batteria, la terza, non lo so, qui è difficile, cielo tirato, l'intervista Musica Attenzione all'armo, questa terza batteria, con questa metà gara direi, chiude! Atenzione all'armo, questa quinta batteria Musica Chiude, Leonardo Cosette di 9 di 86 Musica Attenzione all'armo, questa terza, un'armo, questa terza, un'armo, questa terza, un'armo, questa terza, un'armo, questa terza, un'armo Musica 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 Eccolo! Eccolo! Si chiude! Quattrocento di nave e 29 Davide Dirolla 411 ad Amè, terminato di taglio percorso L P Actящista Ma